Voglio essere libero, libero come un uomo. Buonasera, in questa puntata di Break parleremo di giustizia, anzi parleremo di mala giustizia. Se ne sente parlare sempre più spesso, lo scontro che si è determinato e si determina quotidianamente tra per esempio l'Ordine degli Avvocati, le associazioni forensi in genere e le organizzazioni di rappresentanza dei magistrati si fa sempre più alto, ma non si è mai puntato il dito su quello che è il costo di questa mala giustizia. Quanto costa un processo celebrato male? Quanto costa una condanna sbagliata? Quanto costa una detenzione ingiusta? Bene, negli ultimi dieci anni la mala giustizia è costata circa 70 milioni di euro. Voi vi chiederete, ma chi li ha pagati questi 70 milioni di euro? Quelli che hanno compiuto atti non regolari che si sono rivelati ingiusti? Quelli che hanno condannato ad una detenzione ingiusta o irregolare un cittadino che non meritava di essere arrestato? No, non sono stati loro a pagare questi 70 milioni di euro, siamo stati noi cittadini italiani attraverso le nostre tasse. Ecco come la esigenza di realizzare un sistema giudiziario molto più attento, molto più professionale, molto più celere, molto più trasparente si lega in maniera escindibile al problema della crescita economica perché nessun imprenditore, nessun cittadino si sognerebbe mai di investire e questo purtroppo è quello che sta accadendo in un paese in cui non c'è una giustizia certa, non c'è una giustizia celere ma soprattutto non c'è una giustizia responsabile nel senso che coloro i quali hanno la responsabilità di un errore di natura giudiziaria alla fine non pagano mai perché a pagare sono i cittadini. Ebbene questo accade soltanto nell'ambito della giustizia perché se un medico sbaglia un intervento chirurgico paga e è costretto a stipulare una polizia assicurativa che intervenga nei casi in cui malauguratamente si dovesse verificare un errore durante un intervento chirurgico, durante una cura eccetera. La stessa cosa accade per gli ingegneri, per gli architetti, per i tecnici, insomma tutti coloro i quali nell'ambito della loro professione possono commettere un errore e sbagliare è certamente umano sono obbligati a risponderne e dunque a avere la responsabilità per quell'errore. Tutto questo accade in tutti i settori tranne che nel settore della giustizia dove questa responsabilità è più formale che sostanziale soprattutto perché a sostenere i responsabili della malaggiustizia non è un'assicurazione che viene stipulata a carico del responsabile ma è l'intera istituzione statale, tutti i cittadini, il nostro sistema fiscale. Ecco perché è necessario che nel nostro Paese si provveda rapidamente ad una modifica costituzionale profonda e articolata che riequilibri complessivamente i poteri dello Stato e soprattutto che introduca sin dall'articolo 1 il concetto di libertà a cui bisogna però abbinare il concetto di responsabilità e il concetto di solidarietà. Questi tre concetti non sono presenti nell'articolo 1 della nostra Costituzione, cioè nell'enunciato della nostra Costituzione, nell'incipit, nella parte che descrive i caratteri fondamentali della Costituzione non ci sono né il concetto di libertà, né il concetto di responsabilità, né il concetto di solidarietà. Bene, in questo modo il Paese non si salva, non si salva con una giustizia che ci fa spendere 70 milioni di euro per gli errori che compie, non si salva con una burocrazia che rallenta i ritmi di sviluppo di questo Paese, non si salva con una sanità che obbliga i cittadini ad espatriare per avere livelli qualitativi degni di un Paese civile, di un Paese di tipo occidentale. È necessario pensare certamente ad una riforma costituzionale, ma una riforma costituzionale attenta, responsabile, rapida, ma sulla quale non si pronunzi soltanto il Parlamento che deve certamente proporlo, sarebbe molto meglio se lo facesse un'assemblea costituente, ma sulla quale si pronunzi l'intero popolo attraverso un referendum. Buonasera. Voglio essere libero, libero come un uomo. Grazie a tutti.